risico bello giocare al risico risico è un gioco che viene inventato pensa negli anni 50 in francia poi arriva in italia un grande successo quando lo inventarono nella versione francese risico si intitolava alla conquista del mondo ripeto bello giocare al risico no ti metti la puoi prenderti il venezuela attaccare la jacuzia poi sposti tutti i carri armatini di plastica e che ne so punti tutto sul congo bello giocare al risico c'è soltanto una cosa che manca nel risico ed è il fatto che quando finisce una partita ci si alza si va via c'è uno che ha vinto a bravo pacca sulla spalla e nessuno pensa che là sul campo di battaglia sono rimasti quelli che anche nelle guerre vere rimangono dopo che la guerra è finita dopo che il risico è finito solo che è giocato con i carri armati veri quelli che rimangono sul campo sono i rifugiati gli apolidi gli sfollati i profughi cioè quelli a cui alla fine non gliene importa assolutamente niente di come è nata la guerra perché è nata quali interessi quali difese quali partiti quali principi non gli importa niente l'interessa soltanto che loro hanno perso tutto ecco questo nel risico manca stasera vi racconto la storia di uno che ha a che fare proprio con questo siamo in norvegia e il nostro personaggio di stasera si chiamava frigiot nansen non lo chiameremo federico perché frigio vuol dire federico bene nansen cresce con una grande passione per il nord per il polo per i ghiacci fino da quando è un ragazzo e infatti quando ha 27 anni sarà il primo che riesce a fare una spedizione incredibile cioè lui fece da parte a parte tutta la groenlandia con gli sci 560 chilometri un'impresa incredibile ma quello che lo segnerà più di tutto sarà quando più o meno all'età di 30 anni nansen avendo scoperto una corrente marina che costeggiava la scandinavia e che arrivava fino secondo lui al polo nord lui decise di farsi portare da questa corrente quindi salì insieme ad altri su un'imbarcazione su una nave e si fecero portare dalla corrente le cose non andarono come si pensava non andarono come nansen pensava perché a un certo punto la nave si incagliò in mezzo ai ghiacci e annanze né agli altri toccò scendere e cominciare a camminare cominciare a camminare nel ghiaccio in condizioni climatiche proibitive con i sintomi addosso dell'assideramento combattendo contro orsi polari contro le orche contro la mancanza di cibo e loro camminavano camminavano nel niente per salvarsi e camminarono per un anno e mezzo un anno e mezzo nel ghiaccio fino a quando agosto dell'anno 1896 fortunatamente miracolosamente una nave li ha vista e li salva passano vent'anni passano vent'anni e accade qualcosa accade che scoppia la guerra ed è a quel punto che nansen si rende conto che dopo la prima guerra mondiale i profughi i rifugiati gli apolidi gli sfollati sono esattamente come lui era la fra i ghiacci e quando prova a descriverli dice io mi ricordo com'ero io mi ricordo quando camminavo dentro una terra in cui tutto mi sembrava nemico in cui io ero respinto da qualunque cosa e mi sentivo intorno un mondo che mi diceva vattene e mi rendevo conto percepivo nettamente in modo distinto che il fatto che io vivessi o morissi era qualcosa di cui non sarebbe battuto un corno a nessuno perché avevo perso tutto e quando perdi tutto diventi niente diventi nessuno nansen si rende conto che quei profughi dopo la prima guerra mondiale stanno come lui e allora cosa fa decide di dedicarsi interamente a loro fonda il cosiddetto passaporto nansen che tuttora esiste e che è un modo per aiutare questa gente che salverà la vita a migliaia di persone e quando qualcuno già in quegli anni siamo negli anni venti gli chiede si va bene d'accordo ma quali profughi lui ferma tutti e risponde no per favore togliete il quali tenete il profughi perché non me ne batte assolutamente niente che siano profughi russi che siano profughi greci armeni che siano turchi che siano vietnamiti che siano profughi bosniaci che siano profughi di qualunque parte del mondo non me ne frega niente che siano di kiev che siano del donbass che siano profughi con la pelle chiara con la pelle scura che siano profughi cristiani ortodossi o musulmani non me ne batte niente me ne batte soltanto che sono esseri umani che hanno perduto tutto e io devo far tutto per loro per salvarli è l'anno 1922 quando frigiot nansen vince il premio nobel per tutto questo per il suo impegno per i profughi per i rifugiati per gli apolidi è passato un secolo un secolo esatto eppure nessuno parla di questa ricorrenza perché siamo molto troppo impegnati a parlare di risico a giocare a risico e allora sai che c'è ci sarebbe molto bisogno ci sarebbe tantissimo bisogno di nansen soprattutto perché aggiungo prima di andarmene c'è un piccolo dato in questo momento in cui io ti sto parlando e tu mi ascolti sul pianeta terra ci sono circa 30 guerre in corso di cui una è in ucraina e ci sono oltre 80 milioni di profughi di rifugiati di sfollati dei quali quattro sono in ucraina grazie grazie grazie